Sono in corso gli accertamenti per capire le cause della morte di due coniugi, Maria Angela Sevignone, 80 anni, e Pietro Feltrino, 86 anni, deceduti in un alloggio di Corso Vercelli e di Ivrea. I cadaveri della coppia in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati oggi, domenica 21 luglio, intorno alle 13. Pare che i due corpi fossero in stanze diverse. Secondo i primi accertamenti del medico legale, la coppia era deceduta già da qualche settimana. Difficile ipotizzare senza esame toptico da quanto tempo, anche perché le alte temperature hanno accelerato la decomposizione. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea, al momento non è esclusa alcune ipotesi.